Mi trovo nel reparto parrucco, qui c'è anche il truccatore, Alessandro fatti vedere per favore, guarda, guarda com'è, tremendo, no, non si fanno quei gesti, va bene, siamo qui, stiamo preparando per dopo pausa, Ciro mi sta, come dire, rinfrescando i capelli, vero Ciro? Vero, è il mio parrucchiera, lui è mio, vero che sei il mio? Tutto, ah, ma no, Felice ovviamente ci sta riprendendo, che è un altro parrucchiere doc, e con molta pazienza Ciro attarezza le miciocchi, pronta per girare dopo pausa, il lavoro è complesso, Salutare, ciao Questi ragazzi lavorano dalla mattina alle 5 fino alla sera, quindi è un lavoro molto 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 faticoso, perché se ne usa, qui siamo, come dire, è una catena di montaggio praticamente, c'è chi truffa, c'è chi, qui da questa parte ce l'hai fatta? Sì, che dici, sono a posto così per te, ah, sono avanti, ah ok, perfetto, allora va bene così, va bene così, Ciro, grazie, sei sempre un angelo, perfetto, e con questo vi salutiamo? Buona domenica, buona domenica, hai ragione, buona domenica.